Allora, ben ritrovati per questa terza parte della nostra trasmissione, la difesa della cristianità è il titolo di questa puntata, un tema di grande attualità, si sta dibattendo ma si è dibattuto anche nel corso dei secoli, ci si è affrontati e si è fatta guerra per questi motivi. Sivile von der Schuleburg, grazie per essere con noi questa mattina, spero di aver pronunciato bene il nome. Perfettamente. Perfettamente, la terza volta è andato meglio, è una scrittrice ma non solo è una scrittrice ma è anche la figlia dell'autore di un testo che ripercorre una storica battaglia che si è combattuta sull'isola di Corfu, all'epoca era un'isola della Repubblica di Venezia ed era la battaglia della cristianità e dell'Occidente come lo conosciamo adesso contro l'Islam che avanzava. Intanto, buongiorno e benvenuta. Qui davanti abbiamo il suo libro, Per Cristo e per Venezia. Partiamo un po' dall'inizio in questo racconto e partiamo da come nasce questo libro, dall'esperienza di suo padre e da una storia che l'era già molto familiare. diciamo che narra la storia del Feldmaresciallo Johann Matthias von Schoenburg, quindi un antenato, un personaggio del 1700 che è stato da modello, servito da modello sia a mio padre che a me poi. mio padre è anche lui un personaggio importante, un personaggio storico. Ricordo sempre che è nato nel 1881 mio padre, quindi in genere la gente si chiede quanti anni avrà quella signora lì. Beh, io sono l'ultima figlia della quarta moglie che aveva 40 anni meno di mio padre. mio padre ha iniziato a lavorare su questo libro che poi è predecessore di questo libro quando si trovava a Venezia, alla fine della guerra, della seconda guerra circa, era antinazista e si è rifugiato in Italia. E di questo ho scritto in un altro libro storico su mio padre. Quindi raccoglie informazioni sul Feldmaresciallo. Allora non ce n'erano molte, non c'era internet, c'era da lavorare molto negli archivi di Stato e in quelli privati. Assolutamente. Di memoria, di lavoro, ovvero di intervista, penso con suo padre, fino a quando ha potuto e poi dopo di andare alla ricerca vera e propria. Esatto. Quindi ha fatto una prima raccolta di informazioni, ne ha ricavato un libro che è stato pubblicato la prima volta nel 50, un tomo di un migliaio di pagine. Quindi una storia molto articolata, molto lunga, molto precisa, tanto che è stata considerata fonte biografica del Feldmaresciallo. Questo Feldmaresciallo che mi sembra in Italia si sta un po' dimenticando. Sì, è una storia che secondo me è giusto ricordare, perché lei ha detto siamo nel 1700, è poco tempo fa, parlando di storia, il 1700. Il 1700. Il Feldmaresciallo è stato chiamato a difendere Corfu. Lui è stato un condottiero, ha combattuto molto in giro per l'Europa, molto anche con Eugenio di Savoia, il quale lo stimava moltissimo. Quindi questo inizia il libro nella sua tenuta in Germania, del Nord, su Aemden. Lui comincia a scrivere le sue memorie. Quindi è un condottiero che inizia a scrivere le memorie perché ormai ha deposto la spada, le armi, insomma. Invece no, viene chiamato, interpellato dal suo amico Leipniz, perché Eugenio di Savoia vuole che il Feldmaresciallo difenda Corfu. Corfu, minacciata dai turchi, ancora una volta. Corfu che è della Serenissima. Quindi il Feldmaresciallo dovrebbe lavorare al servizio della Serenissima. Si racconta la storia dei tempi necessari, dei tempi d'attesa, perché la Serenissima allora è un po' quella che l'Italia al governo di oggi. Non sempre tutti sono riuniti, non si lavora. È la fine della Repubblica di Venezia sostanzialmente. Quindi probabilmente un degrado. Mancano ancora un po' di anni alla fine. Mancano ancora un po' di anni alla fine. Ancora il Carnevale si festeggia, però richiede tempo, e in quel periodo dei senatori. L'estate è uguale, insomma, i senatori vanno nelle viglie del Brenta e non hanno tempo per lavorare. Quindi c'è una lunga attesa che qui viene anche descritta. C'è quest'amore del Feldmaresciallo per Venezia, e poi la battaglia, che vedrà 3.000 uomini a servizio sotto il Feldmaresciallo che combatte in prima linea contro 40.000 turchi. E questa è storia. Quindi in questo senso non ci siamo inventati niente. Sarà la bravura del Marasciallo, sarà anche la fortuna che farà la sua parte, che si presenterà in acquazzoni, eccetera, che aiuteranno effettivamente a vincere la battaglia. E permetteranno... C'è una battaglia sul mare, quindi? No. Una battaglia su terra. Esatto. Ci sarà una parte di marina, supportato anche dalla marina veneziana, perché erano forti in mare. Dopo la vittoria, il Feldmaresciallo torna a Venezia con tutti gli onori, gli viene retta una statua in vita, tuttora su Corfu, dove viene festeggiato moltissimo ogni anno. Torna e resterà fino alla sua morte a Venezia, che sarà poi nel 1947. Lui è comandante della milizia di terra, quindi farà base a Verona, però va e viene da Verona perché continuerà ad amar Venezia. Sarà secondo al Doge, in tempo di pace secondo al Doge. Sarà il punto fermo politicamente e diplomaticamente, perché ci saranno succedersi di Doge, ma lui resterà lì come punto fermo, fino a 1947, che poi morirà Palazzo Orti a Verona. A Verona c'è poi un monumento, è stato restaurato, mi sembra, nel 2003, su cui risulta anche mio padre. Insomma, mio padre e questo Feldmaresciallo vicini a Venezia, riuniti. Per questo chiedo che non venga dimenticato, nel prossimo sono 300 anni che difende anche l'Europa dall'Islam, dai turchi che rappresentano poi l'Islam. Dicevamo che due secoli non sono poi così tanti sostanzialmente, e la storia si ripete. Cioè, evidentemente, questo conflitto ha, lo sappiamo, delle origini molto antiche, le mire espansionistiche altrettanto sono così antiche. Che cosa ci insegna questa storia, secondo lei, riportandola all'attualità? Ci insegna, direi, soprattutto che dobbiamo avere un occhio sempre su quella che è la nostra cultura. La nostra è una cultura occidentale. È una cultura che ha radici cristiane, che ha passato l'illuminismo. È una cosa che prescinde dalla religiosità del singolo. Quindi, difficile da spiegare in due parole. È qualcosa che ci accomuna, da un lato, e che ci separa però dalle altre culture. La nostra, oggi come oggi, è una cultura che è laica. Quindi, la nostra normativa prescinde dalla religiosità. Mentre l'Islam è sì una religione, ma anche un sistema giuridico. Quindi, è un sistema giuridico che va a entrare in un altro sistema, un po' un paradosso. Quando studiavo giurisprudenza, l'Islam mi è stato insegnato nei sistemi giuridici comparati. E questo vuol dire qualcosa. Quindi, questo è un libro che vuole far riflettere su quello che è la posizione occidentale nei secoli, il lavoro che è stato fatto da personaggi come i Leibniz, che non era uno qualsiasi, ma per dirne uno c'erano tanti altri, che hanno combattuto per l'idea cristiana, per la cultura, il pensiero cristiano. Diciamo che il suo libro si intitola Per Cristo e Venezia, perché era proprio il grido di battaglia, sostanzialmente, ed era anche la testimonianza dei valori che portavano con sé andando a combattere in 3.000 contro 40.000 turchi, voglio dire. Cioè, è una battaglia che poteva essere considerata quasi suicida, sostanzialmente, se si guardassero soltanto... Sì, nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Infatti erano disposti a morire, erano già pronti, avevano già minato, avevano già pensato poi a una sorta di suicidio, far saltare la Santa Barbara, avrebbero combattuto fino all'ultimo, ma sapevano già dove sarebbero andati a morire. Cosa che poi non è successa, proprio perché, per un evento casuale. E viene così, direi. Beh, assolutamente, diciamo che dobbiamo molto a questa vicenda storica, perché Corfu era un simbolo, sostanzialmente, era un avamposto che difendere Corfu voleva dire difendere tutto quello che c'era dietro Corfu. Esatto. Corfu poi ha partecipato, molto bello, si rileva anche nel libro, la partecipazione della popolazione, che in un primo momento avrebbe preferito non combattere. Lasciatele arrivare i turchi e stiamo tranquilli, forse non ci faranno niente. Quindi andavano convinti anche loro. Una forte partecipazione invece da parte della comunità ebraica di Corfu. Hanno aiutato molto anche loro nella battaglia. E questo è descritto, è storico anche questo, come è storico il fatto che poi Feldmarasciallo abbia donato un terreno alla comunità ebraica che poi è diventato un cimitero. Quindi sono tutte queste piccole nozioni storiche che sono riportate dentro, sono intrecciate in questo romanzo. Tra l'altro è simpatico notare che Feldmarasciallo era protestante, non era cattolico, quindi alla sua morte, morto a Verona, in Val Samato, c'è stato un enorme corteo funebre storico, anche quello ci sono ancora dei disegni in alcuni archivi di Stato. e arrivato a Venezia non sapevano dove metterlo, perché nelle chiese non potevano metterlo, nel cimitero non potevano metterlo. Alla fine, dopo averlo tenuto lì per un po', hanno deciso di metterlo in arsenale. È stato murato nell'arsenale e è stato fatto un cenotafio di muolaita. Tra l'altro abbiamo anche delle fotografie, adesso io cerco di, velocemente, mentre lei ci racconta questa bella testimonianza storica, di recuperarle per renderle godibili anche al nostro pubblico. Ecco, quindi è questa traccia di questo famoso maresciallo, tra l'altro l'unico Feldmarasciallo della Serenissima, l'unico con questo titolo, Feldmarasciallo della Serenissima, e l'anno prossimo il trecentenario, di quella che è stata poi l'ultima grande battaglia contro i turchi. Peter Varadino è stata una data importantissima, un evento importantissimo, quindi Eugenio di Savoia ha finito il lavoro e difficile da dimenticare una cosa di questo genere. Il libro, poi, il romanzo, che non è un saggio storico, però racconta questo importante personaggio, anche dal punto di vista umano. Ma appunto, lei ha detto che non è un saggio storico, ma è un libro che ha l'intenzione di raccontare una storia che ci parla della contemporaneità, cioè la sua è proprio l'intenzione di fare un po' attenzione alla storia, di ricordarsi questa storia, e di ricordarsi che può essere un pericolo questa storia. È questa l'intenzione? È questa anche l'intenzione, sicuramente, anche perché devo dire che di Venezia si parla poco dal punto di vista storico. Io ho studiato in Italia, si studiano molti romani, in Venezia ho studiato poco su Venezia, ecco, di Venezia si è parlato poco, ma Venezia è stata importantissima, Venezia ha tenuto dei contatti in Europa, allora incredibili, e anche di questo si parla, perché lì si colloca Venezia all'interno di un quadro europeo, quindi la minaccia del turco era verso l'Europa, passando da Venezia sì, ma verso l'Europa, e anche lì vengono accennati poi vari giochi politici, che si sono ripetuti diverse volte, per esempio i francesi appoggiavano i turchi perché combattessero contro gli austriaci. Anche questi giochi venivano fatti. Attenzione a non ripetere questo genere di giochi, adesso al di là Francia o qualsiasi altro stato. Anche questo modo di usare un nemico, tra virgolette, per combatterne un altro, è abbastanza comune. Da un punto di vista politico, abbiamo poi visto anche in biologia, sono la stessa cosa, ma attenzione che potrebbe essere veramente pericoloso. E purtroppo l'abbiamo visto anche sulla nostra pelle, quanto può essere pericoloso la storia, come ha detto lei, molto spesso si ripete, il Mediterraneo è sempre quello, e le storie del Mediterraneo rischiano un po' di essere quelle. Ci sono molte cose tra le righe che lei ha sottolineato, che fanno pensare assolutamente alla contemporaneità. Io prima stavo facendo un discorso su questo slogan per Cristo e Venezia. Oggi siamo chiamati un po' a mettere in discussione i nostri valori, e a domandarci cosa siamo disposti a mettere in gioco, cosa siamo disposti a fare per tutelare la nostra libertà, il nostro modo di vivere, la nostra laicità, che un po' viene messa in discussione dallo stato delle cose. Sì, e la nostra è una conquista, cioè noi, il nostro benessere, il nostro modo di vivere, quello che ci piace fare l'abbiamo conquistato nel tempo, anche la posizione della donna, non è una cosa che abbiamo trovato per strada, io mi ricordo manifestazioni, ho l'età per aver vissuto certi periodi, abbiamo combattuto e abbiamo ottenuto certe posizioni, certi diritti, tornare indietro adesso è assurdo, è veramente impensabile, anche di questo si parla, donne intelligenti. Ma invece far fare a loro un passo avanti a queste forme di civiltà che si dice comunque abbiano bisogno di tempo, di cambiamento, lei non ci crede in un cambiamento dell'Islam? Sì e no, nel senso che sicuramente tutti possiamo cambiare, siamo qui per cambiare, tutti cambiano, una cosa è un po' uno slogan che uso anche in altri contesti, però il punto di partenza è molto rigido, quindi andrebbe cambiato quello, non so fino a che punto si possa cambiare, quindi non vorrei entrare nel merito di queste cose, ma per come la vedo io è molto difficile, è molto difficile. Come è stato accolto questo libro a Venezia? Molto bene. Sì? Ha avuto un bel riscontro? Ha avuto un bel riscontro, è stato presentato all'Ateneo Veneto, è stato presentato in altri contesti, prettamente veneti, e con entusiasmo, ho trovato persone che conoscono bene la storia del Feldmaresciallo, che lo apprezzano e lo ricordano, una cosa che io non pensavo ci fosse, ma c'è anche questa realtà, e poi ha vinto il premio Mario Luzzi recentemente, e questa è una gran soddisfazione, perché è uno dei premi più prestigiosi in Italia, quindi se ne parlerà e a me fa solo piacere sentire parlare anche di Venezia, ancora Venezia storica. Bene, io ho un segnale dalla regia, e non avendo purtroppo oggi un counter, presumo che sia finito il tempo a nostra disposizione, credo che meriti assolutamente andare alla ricerca, alla riscoperta di questa storia, che ci parla delle nostre radici. L'editore Padovano, L'editore Padovano, non abbiamo detto il nome. Padovano è il Prato, il Prato, edizione Il Prato, Padovano, quindi venite alla storia, venite all'editore. Speriamo che i lettori siano internazionali, però, perché so che è in preparazione con edizione in varie lingue. Già pronta quella tedesca, anche lì sarà molto onorato, e ovviamente il greco moderno, perché grandi festeggiamenti su Corfu l'anno prossimo. Ah, benissimo. In bocca al lupo, e grazie allora di essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie, ci vediamo come sempre domani. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.